Il suo uomo è intrinsecamente buono. Sono le circostanze che hanno fatto l'aggressivo e fare cose così male. Questa è la mia filosofia. L'aggressivo è un rischio di rischio di rischio di rischio di rischio. quando la guerra in cui l'autorità di utilizzare potrebbe portare l'endimento dell'immunità. L'autorità di destrazione è completamente contro i miei ideali e non voglio essere involvati in una scienza che portava destrazione. Voglio essere involvati in una scienza che portava l'autorità di persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.